Un incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 29 giugno, poco dopo le 15, in un'abitazione situata in via San Francesco, frazione Bene di Oglianico. Le fiamme sono divampate dal garage adibito a magazzino. Nel cielo si è levata una colonna di fumo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ibrea, Rivarolo Canavese e il carrofiamma da Torino, che hanno domato e spento l'incendio. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, ingenti i danni, in corso alle verifiche e alla struttura dell'abitazione. Grazie a tutti i giorni, in corso alle verifiche e alla struttura dell'abitazione. Grazie a tutti i giorni, in corso alle verifiche e alla struttura dell'abitazione. Grazie a tutti i giorni, in corso alle verifiche e alla struttura dell'abitazione. Grazie a tutti i giorni, in corso alle verifiche e alla struttura dell'abitazione.